Piccolo abbiamo quasi dieci novità di autori italiani e questo è il mio grande orgoglio, da Gabriele De Luca a Pugnizzolfo a Tarantino a Pierattini e questo è un altro punto che nessuno fa perché lavoriamo sulla contemporaneità dell'arte, non sulla musealità culturale. Così il direttore artistico dell'Eliseo, Luca Barbareschi, illustrando la nuova stagione del Piccolo Eliseo. Il cartellone si apre il 27 settembre con Purgatorio di Ariel Dorfman nella traduzione di Alessandra Serra, a cui segue Ferdinando dal testo di Annibale Ruccello. La fiaba sull'infanzia negata Pugni di Zolfo e Spettacolo di punta L'apparanza dei bambini ispirato al bestseller di Roberto Saviano. E ancora New Magic People's Show, Cus Cus Clan di Gabriele Di Luca e la coraggiosa Lampedusa, da testo inedito di Anders Lustgarten per la regia di Giampiero Borgia con Fabio Troiano e Donatella Finocchiaro. Dal 21 febbraio Stabat Mater con Maria Paiato, testo di Antonio Tarantino, regia di Giuseppe Marini. Dal 14 marzo in scena Orphans, noir sofisticato e dalle forti atmosfere del drammaturgo britannico Dennis Kelly. Seguiranno due opere di Giuseppe Patroni Griffi, D'estate con la barca e Scende giù per Toledo, diretto e interpretato da Arturo Cirillo, storia di un travestito napoletano. Con 92 Claudio Fava ci riporta nell'anno in cui furono uccisi Falcone e Borsellino. Dirompe invece l'amore nel testo scritto da Filippo Gigli e diretto da Francesco Frangipani, prima di andar via.